Danneggia un'auto nel megaparcheggio Calvario di Ariano Erpino. In tre sono stati denunciati. A identificare due ventenni e un professionista di 50 anni, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato, diretto dal vicequestore Maria Felicia Salerno. Le indagini sono state avviate a seguito di diverse segnalazioni di danneggiamento di auto nel Silos. Il primo episodio si è verificato ad opera di due ragazzi, rispettivamente di 20 e 21 anni, i quali nel cuore della notte hanno rovinato un fuoristrada praticando delle incisioni e dei profondi graffi su gran parte della carrozzeria, praticati probabilmente con un oggetto in metallo appuntito, ingente il danno economico. A fare l'amara sorpresa, la proprietaria, che nel riprendere l'autovettura regolarmente parcheggiata per recarsi al lavoro, ha trovato il fuoristrada danneggiato con profonde incisioni sul cofano motore e su entrambe le fiancate laterali. Nel secondo episodio di ha interessato una Fiat Panda rovinata completamente sul tetto con del liquido, probabilmente acido, che colando aveva ricoperto e corroso quasi tutta la carrozzeria, fino a danneggiare alcune parti meccaniche ed elettriche. Ad agire, secondo le indagini della polizia, un cinquantenne del luogo professionista incensurato ed insospettabile che spesso usufruisce del parcheggio. Anche in questo caso il proprietario si è trovato al cospetto di un'auto danneggiata. Immediate le indagini poliziotti, a seguito delle segnalazioni giunte in commissariato, che hanno acquisito le immagini del sistema interno di videosorveglianza per analizzare attentamente le sequenze. Informativa, è stata inoltrata la procura di Benevento che ha aperto un fascicolo. A conclusione delle indagini, gli agenti hanno denunciato tre persone, tutte del luogo, con l'accusa di danneggiamento.